Buongiorno a tutti, benvenuti in questa giornata di rinascita. La meditazione di oggi sarà basata sulla fioritura, sulla primavera e sull'opportunità di poter assorbire anche le negatività di chi ci sta intorno. Quindi come trasformare le negatività di chi ci sta intorno senza che la primavera, il sole e gli aspetti positivi fioriscano. Ecco, la meditazione quindi inizieremo con un semplice mantra che potrà essere anche il seguente. So-ha Om-ta-re-tu-ta-re-so-ha So-ha Ripetendo questo mantra per dieci volte e invocando che il nero o il bianco che fa contrasto sulla nostra superficie può essere bianca se il contrasto è nero o viceversa. Se il contrasto è bianco la nostra superficie sarà nera, quindi sarà sempre una forma di contrasto. Ricordiamoci sempre quindi di convogliare in questo imbuto l'informazione della negatività e l'imbuto piano piano trasforma questa idea, questo colore, da nero. Sempre lo espande, il nero si espande sempre di più fino a diventare completamente nero su sfondo bianco e scomparendo quindi. Quindi non si dà energia, da solo si espande e da solo scompare. Quindi non dando energia alla negatività, essa scompare perché può prendersi tutto ciò che siamo. Questo diciamo morire a noi stessi, questo lasciare andare, questo non opporsi, questo lasciar fuire è esattamente l'obiettivo dell'essere leggeri, dell'essere tutt'uno. Con l'universo, perché quando sei tutt'uno con l'universo puoi volare e puoi portarti nell'armonia più ampia. Da Enrico Valbonesi, le meditazioni della trasformazione e della salute. È tutto.